Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Sto continuando il video della settimana scorsa Perché per me è sempre domenica 9 aprile E sono le 11 e 10 Sì, le 11 e 10 E speriamo che tutti durano 6 minuti Come quello di prima però Speriamo di no per voi perché voi mi volete morto Lo so chi mi volete morto Il gameplay della settimana scorsa Va lasciato a bocca asciutta come si può dire Siamo su Impatto Sonoro, io sono Paul Games E siamo oggi su Resident Evil E come ti consiglio, a voler intro Ok ragazzi, noi siamo ancora Negli autosalvataggi Usciamo dall'autosalvataggio e clicchiamo Avanti, non ci perdiamo in chiacchiere Continuiamo il secondo gameplay Di fila, di consecutivo Sì, è la prima volta che faccio un gameplay di fila Perciò No, siamo nell'ascensore di no Nella nave, beh meglio non c'è quel mostro Invisibile Meglio così ragazzi Fidatevi di me Meglio così Due che ficcano Acqua No, è pipì Viene da laggiù Sì, da laggiù Perché mica la può fare davanti a voi Mischino È vero, dalla regia È vero Mica puoi pisciare davanti alle persone C'ho il mio fucile Da cicchino Non ho colpi dalla mitragliatrice Ah vero, sono senza munizioni Ricarichiamo il fucile a pompa Veloci, ci sono due entrate Però di là serve il codice Perciò noi andiamo di qua ragazzi Senza indugio Sul segugio No Dov'è la perdita? Non mi piace stare nell'acqua Ah non si vede niente nell'acqua Il livello dell'acqua sale Ma dai Non perdiamo tempo Sì Ma almeno No 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 Non si fa Senza indugio Sul segugio GIOA GIOA Ok 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 Ti tira dritto Ti tira dritto Senza paura Dobbiamo chiudere il vapore Ma io ho visto cose che non volevo vedere Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi Ritorna ed entra in quella porta tu stogliti dalle Io ho pa Ura Dov'è? Oh merda Oh merda Uè ragazzi come va Dove cazzo sei? Via Via Veloce Non mi piacciono quei mostri dell'acqua Non me gustano Qui c'è qualcosa Sì qua c'è qualcosa 30 munizioni mitragliatrici Ma perché le spreco? E io vado Non è sculpa mia Sembra un dispositivo di riavvio Ok ho capito Riavvia no Ok Un po' d'erba Qui Off Dai No ci Ok ho staccato il vapore Prendiamoci la piantina d'erba Che fa sempre Come la disattivo quella lì Cioè no ma perché si finisce sempre nell'acqua Oh La detesto Fuori dall'acqua Fuori dall'acqua Fuori dall'acqua Mi attaccano in troppo Mi attaccano in troppo Fuori dall'acqua Ho detto fuori dall'acqua Fuori dall'acqua A capo sto Merda Crepa Ok Se c'è qualcuno Esca fuori O lo uccido Ah merda Da dove cazzo è smuntato? Ma dove cazzo è smuntato questo? Oh mio dio Oh un altro fucile Sì cambia arma con il fucile a pompa Sì Hai raccolto AUG Sì prendi Ok F No Non voglio cambiare arma Voglio l'AUG Che è più bello Più figo Ma ha 42 corpi Ok Usciamo di qua Ma dove deve andare? Prendiamo la granata elettrica Ispezioniamo qua C'è qua Una cosa per terra Hai trovato un oggetto Che sai Ma hai 8 munizioni per fucile a pompa Che non ho Che non ce l'ho il fucile a pompa Vero o no? Ok Qui Dai veloce 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 Ok va a zero Non dovremmo avere più gas Ragazzi Sì non dovremmo avere più gas Ok Noi andiamo di qua Andiamo Dov'è? Ok Ok è morto Sì C'è qualcun altro Ok Scansione Fatta Ok È morto Sì che è morto Sì e vai Ok Usciamo Andiamo di qua Ci spunta lui Uccidiamolo Vai Crepe Bastardo Andiamo C'è la chiazza Sempre per terra Ok Andiamo Noi ora dovremmo Ma che caldo sei Ora tutti stanno spuntando Vai Ok Più uno Là ci sono delle munizioni Prendiamo munizioni Più 30 Ricarichiamo Il nostro fucile Bello belluoccio Saliamo Perché dobbiamo salire Ma di qua non si sale Perciò abbiamo sbagliato strada Torniamo indietro Ok Tutto ok Mi son confuso Son Goku Ok Basta che Andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo 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 a comandare Pa 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 Gil Qui Qui è tutto a pezzi Provo ad aggiustarlo Se ci riesco Ti contatto via radio Ok Noi andiamo di qua Tu stai bene Scendiamo A quanto pare Questo lavoro È tutto un girare a vuoto Brutto 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 Ok Verrà di qua sicuramente Cos'è sto telefono porco Hai inserito la cosa Ok Qui F Gira 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 Che cos'è C'è qualcosa dentro si e che cos'è La chiave Ok ora dobbiamo tornare indietro Torniamo 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 E Punti stare il tiro mi faceva scantare Dobbiamo ora solo tornare indietro Che sarebbe salire Girare di qua Ok Dammi un attimo che vengo in posizione A Pecorino o alla missionaria Un attimo ragazzi No un attimo niente Ecco Come nuovo Ma Che è successo? Oh cazzo Merda 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 Un attimo ragazzi Cazzo Che facciamo? Automatico Non c'è più tempo Diafro Gir No si ferma Finito ragazzi Abbiamo finito 30 minuti esatti In più di quello di prima Comunque Precisione 75% Per siento Lo spagnolo Mi ha contagiato Comunque sia ragazzi Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un like Commentate Condividete Ah e a proposito Iscrivetevi ai vari canali della crew Ovvero Fulmir Sonoro Paul Games Patrizia Lo giudice o giudice Ancora non l'ho capito Scusa Patrizia Lo so che mi ucciderai Perché già l'ho detta questa cosa Due volte Però non ci posso fare niente Uccidimi sono qua Appena scendi a Palermo Mi metto così Fammi quello che vuoi Comunque sia Io vi ricordo di lasciare un like Commentate Per cambiare lo sfondo Ragazzi Si potete cambiare lo sfondo Chi l'avrebbe mai detto È una cosa impressionante Comunque Il video termina qua E noi ci vediamo A un prossimo video Ciao